L'ospedale pediatrico penso sia un gioiello che abbiamo a Padre, sentire le emozioni che trasmettono le mamme, i bambini che purtroppo hanno questi problemi, è una cosa che fa arrabbligire. Sono orgoglioso di questa città che dà il massimo in queste cose, ma sempre dal massimo. Mi ricordo che siamo stati capiti al volontariato, non è un caso, non è un merito politico, è un merito della città. E quello che stiamo facendo oggi, raccoglie mille e circa di tradizioni su una maratona, penso che sia veramente poco, perché vedete che la città risponde in maniera incredibile. Questo l'ospedale pediatrico l'abbiamo già ampliato, grazie all'azienda Spedale, grazie al governo precedente che ha dato un contributo, grazie a tutti noi che stiamo collaborando, perché venga fuori il primo possibile. È veramente un regalo alla città incredibile, perché veramente lavorano col cuore. Fiato e cuore, è importante esserci con un minimo di allenamento, perché lo sport è alla base di questa grande giornata che è il 23 aprile alla Padova Marathon, ma la componente più importante è il cuore, solo facendo rete con il cuore, con tutte le realtà importantissime, con le associazioni che ci sono per raggiungere questo 1500, che è il numero degli atleti che deve correre per fiato e cuore. Solo così, in tanti, riusciremo a raggiungere quel grande obiettivo a sostegno delle cure palliative pediatriche dell'ospedale di Padova.